Per consentire gli interventi di messe in sicurezza del Bivio Bonifati in provincia di Cosenza sulla strada statale 18 Tirrene Inferiore, a partire da lunedì 25 settembre fino al 25 ottobre, ANAS comunica che sarà in vigore l'interdizione al transito veicolare del Bivio lato sinistro in prossimità del km 289 con contestuale limitazione di velocità. Per lavori di manutenzione della pavimentazione relativa a segnaletiche invece sulla strada statale 106 Onica tra i territori comunali di Monte Giordano e Rocca Imperiale, sempre da lunedì 25 settembre fino al prossimo 25 ottobre, anche in questo caso sarà in vigore l'interdizione al transito della sole carreggiata nord direzione Reggio Calabria, a Taranto tra il km 406 e il km 414 con contestuale deviazione del traffico sulla carreggiata sud predisposta a doppio senso di circolazione. Infine, lungo la strada statale 606 di Acre in provincia di Cosenza per interventi di ripristino del manto stradale, a partire anche in questo caso dal prossimo lunedì 25 settembre, saranno in vigore alcune limitazioni al transito nel comune di Acre.